Il maestro Aldo Cicconoffri è il direttore del coro polifonico Città di Tolentino. Si rinnova un appuntamento, quello per la festa delle donne, con il concerto Love Me Tender che si terrà questa volta al Teatro Comunale di Caldarola. Sì, lo facciamo a Caldarola perché purtroppo il nostro teatro ancora non possiamo utilizzarlo. A Caldarola c'è un bello spazio, un bel teatro e ci piaceva dedicare a questo appuntamento un luogo bello perché pensiamo che la festa della donna sia un appuntamento importante per sottolineare l'importanza di questa figura. Vogliamo ricordare anche il giorno dell'evento e come sarà impostato? Il giorno dell'evento è il 4 marzo, venerdì prossimo e sarà impostato con tanta musica perché tante canzoni sono state dedicate alla donna. Abbiamo pensato di inserire oltre alla musica e alle canzoni qualche poesia, qualche testo, qualche racconto, qualche aneddoto e questi saranno proposti da delle figure femminili della nostra città, del nostro territorio che sono molto noti. Ecco, e poi la particolarità è che il coro quando presenta un concerto si muove sempre con grandi numeri? I grandi numeri sono dovuti al fatto che oltre al coro in queste occasioni abbiamo una piccola orchestra e quindi ci fa piacere collaborare anche con questi gruppi perché rendono molto più ricca la proposta musicale. Come è possibile prenotare il biglietto? Il biglietto è possibile prenderlo, credo la cosa migliore sia venire direttamente in teatro venerdì, arrivare un po' prima perché speriamo insomma in una grande affluenza.